Buongiorno, benvenuti. Questa è la sedia stampa di oggi 12 febbraio. Cosa è successo sui giornali? La cosa fondamentale sono tutti quanti i risvolti della piattaforma russo. Quella cialtronata, non tanto perché sia cialtrona l'idea di trovare una piattaforma per organizzare la democrazia interna, che secondo me questa è la critica più assurda, che sono meglio le assemblee di partito. No, la cialtronata è per le domande e per la ridicola posizione che sempre fanno Casaleggio e Grillo, sembrare quella piattaforma una specie di verbo di Dio, cioè il loro sceso in terra con delle domande epiche. La piattaforma russo ieri dice sì al governo Draghi e tutti i giornali, come sapete, oggi ne parlano con circa il 60%, il che vuol dire il 40% di no. Draghi, giornali, dunque già oggi, secondo i giornali, potrebbe salire su al Quirinale e sciogliere la riserva e tra poco ne parliamo. La prima cosa che mi diverte moltissimo è la tesi che un pochino mette Mattia Feltri, ma invece in maniera esplicita scrive Michele Brambilla sul quotidiano nazionale e cioè la domanda della piattaforma russo ieri sarebbe dovuta essere la seguente. Ovviamente voi sapete che è rivolta soltanto agli iscritti del Movimento 5 Stelle, quindi sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo guidato da Dracula, già presidente dei banchieri europei e che ci veda alleati oltre che con il Matteo Renzi e il PD anche con lo psico nano? Questa doveva essere la domanda che Russo avrebbe dovuto fare ai propri iscritti, dice Michele Brambilla e dice che psico nano è come ha definito Berlusconi, nuovo alleato dei grillini, proprio Beppe Grillo e Dracula, il presidente dei banchieri europei è esattamente come proprio Grillo ha definito Mario Draghi, senza dimenticare ovviamente tutte le cose che ha detto sul PD e sugli altri partiti diciamo di quella coalizione che voi conoscete bene e che sono voglio dire però già sdoganati dal conte 1 e il conte 2 e questa è la rottura di quella gigantesca ipocrisia per cui non uno vale uno, ma uno vale tutto, cioè Grillo gli va bene tutto, è incredibile la metamorfosi di questo movimento che obiettivamente ieri muore, non è che muore quando fa l'alleanza con la Lega, non muore quando fa l'alleanza col partito di Bibiano, muore quando fa l'alleanza con Draghi, non è possibile che il presidente del Movimento 5 Stelle sia un presidente anche gradito a Nicola Porro, cioè non è possibile per loro, non per me, ma per loro è una cosa inconcepibile secondo me, ma comunque ed è tanto vero che una parte del Movimento 5 Stelle è quello che ha meno da perdere, cioè quelli che non hanno uno stipendio, cioè Di Battista che non è parlamentare, non rischia di fare il ministro, non ha nessun ruolo, dice ciao Correa e prende e se ne va. Diverso sarebbe il caso in cui ad andarsene, oggi ne parlano solo i giornali con il retroscena, forse una decina di parlamentari tra cui la Lezzi, Toninelli, cioè pensiamo i grandi pensatori del Movimento, che però anche qui sia molto chiaro, questi se ne vanno avendo il culetto al caldo perché sono sicuri che grazie a Draghi loro porteranno a casa lo stipendio per i prossimi anni, perché Draghi fino a prova contraria è quello che permetterà a questo governo di non far andare ad elezioni, quindi la situazione è diciamo per loro molto comoda, non verranno rieletti, probabilmente ce lo auguriamo, ma in realtà hanno poco da perdere a essere con loro o contro di loro, pur non sapendo di essere con loro, secondo me la posizione per una volta, pensate un po' voi di Toninelli, non coerente ma intelligente, rimangono in Parlamento, si prendono il loro stipendio, fanno gli oppositori al governo che loro stessi avevano definito fatto da Dracula e quindi hanno buon gioco insomma ad avere comunque una posizione politica, perché io voglio vedere come i grillini spereranno a casa loro che Draghi non è Dracula e che Berlusconi non è lo psicolano, va bene, comunque andiamo avanti, l'altro grande sconvitto è quel poveraccio del fatto orfano di Conte, ed oggi è stupendo perché non è soltanto orfano di Conte il fatto, è anche orfano di Rousseau, è anche orfano di Grillo, è orfano del Movimento 5 Stelle, oggi Travaglio piange, piange sul giornale, ora anche sei iscritti su dieci del Movimento 5 Stelle si sono bevuti la supercazzola di Grillo sul superministero della transizione politica economica e dato il via libera al suicidio del Movimento 5 Stelle, quindi siccome il Movimento 5 Stelle non ha fatto quello che ha detto lui, c'è una cosa incredibile, cioè diceva steniamoci, una cosa surreale, insomma allora il Travaglio come spesso avviene non ci sta e porta via il pallone, il pallone vuol dire che il Movimento è morto secondo lui, anche secondo me, devo dire che concordo pienamente con Travaglio su questa posizione, il Movimento adesso non riesco bene a capire che senso abbia questo Movimento 5 Stelle, ma la cosa più bella è quello che dice Travaglio su come stanno andando le cose, dice ma insomma questi qua si suicidano in realtà e gli incompetenti, facendo un po' il verso a quelli che consideravano Conte, Toninelli e questi, gli incompetenti ci hanno lasciato il miglior piano vaccinale d'Europa, giuro, lo scrive, giuro, Travaglio dice che ci hanno lasciato il miglior piano vaccinale d'Europa e un recovery al Parlamento che sta proprio lì per essere approvato pronto, devo dire che vive veramente nel suo mondo, cioè vive nel suo mondo delle sue ragazzine con cui canta il karaoke alla barchetta, perché io non riesco veramente a capire, cioè veramente io ho questa impressione, proprio Julio Iglesias è diventato il sorcino Travaglio, perché uno che dice che abbiamo il piano vaccinale più efficiente d'Europa se la batte con Ferrara, cioè i due dovrebbero semplicemente fare un karaoke con Albanese e quindi sarebbero tutti abbastanza soddisfatti. Nel frattempo sul fronte del governo Draghi prepara i ministri e qui succederà un casino pazzesco, ma succederà un casino pazzesco all'interno dei partiti perché pare che Draghi, secondo la Repubblica, abbia dato ai partiti una rosa di nomi da piazzare ai ministeri, quindi immaginate un po' voi che succederà in Forza Italia penso, ma anche nella Lega oggi il messaggero esplicito, tensione tra Salvini e Giorgetti dice il messaggero perché Salvini vorrebbe fare il ministro e quindi brucerebbe Giorgetti che invece è proprio il grande artefice di questa alleanza. Chissà che cosa avverrà in Forza Italia tra i diversi cacicchi come qualcuno li potrebbe definire della Forza Italia perché Forza Italia è fatta per strati, per rapporti con Berlusconi, poi se uno va al governo magari l'altro assume maggior peso di telepartito, io vedo una cosa che sarà da divertirsi, si fa per dire. Sallusti riguarda i ministri dice paradossalmente tutti i tecnici sarebbe meglio perché eviterebbe le invidie all'interno dei partiti, viene su questo lato che vi ho appena detto, però bisognerà dare una libertà vigilata a Draghi perché ricordiamoci che questa roba qui è comunque, la democrazia esiste. Una tesi completamente diversa rispetto a tutti gli altri giornali, c'era la verità, secondo la quale sarebbe sotto schiaffo Grillo e quindi avrebbe fatto questa capriola perché i PM gli terrebbero o terrebbero quella collottola sulla questione del figlio Ciro che vi ricordate è sospettato di violenza sessuale nella casa sarda proprio di Grillo nei confronti di un paio di ragazzine. Il caso Grillo Junior non è diventato come il caso genovese, non ne parla nessuno, anche se erano umbriachi come delle zucchine e delle donne sostengono di essere state violentate e dal punto di vista processuale uno è in galera e l'altro invece da un anno e mezzo che indagano e indagando ancora non lo hanno rinviato a giudizio. Quindi per quanto ci riguarda come prevede bene la legge e la istituzione italiana sono tutti innocenti fino a prova contraria, non è che devono dimostrare la loro innocenza, sono tutti innocenti gli italiani, devo dirvi la verità è innocente fino a prova contraria financo genovese, chiaro, quando verrà condannato, primo, secondo e terzo grado potremmo dire di lui quello che dovevo dire, ci sono state le telecamere, quello che volete, ma in realtà esiste ancora una giustizia formale in questo paese e però questa giustizia formale terrebbe sotto schiaffo, dice la verità, Grillo, terrebbe il figlio di Grillo in, come si dice, in ambasce e mette insieme e che quindi per questo avrebbe aderito al piano Draghi, insomma, comunque suggestivo, i legali comunque gli chiederanno, come si dice, chiederanno nei prossimi giorni la sua mancata di rinvio a giudizio. Cosa succede sul fronte economico, ce lo dice, mentre Travaglio dice le sue, diciamo, genialate, cioè il miglior piano vaccinale d'Europa, il recovery presentato in Parlamento, la UE dai numeri, nel senso che dice come stanno andando le cose economiche in Italia e in Europa e sostanzialmente in Europa si riprenderà con un tasso del 3,8% di crescita del PIL probabilmente nel 2021 e sapete, dice il Sole 24 Ore, qual è il paese che crescerà meno di tutti? Beh, quello di Travaglio, quello in cui abbiamo fatto il piano vaccinale che ci invidia l'Europa, quello dove abbiamo fatto le attività che ci sono, 180 miliardi buttati nel cesso e siamo anche il paese che arranca di più nella crescita europea e qua facciamo i fenomeni, ben venga ovviamente a questi fini uno che l'economia la butterà meno nel cesso di quanto abbiano fatto questi incompetenti scappati di casa di cui pagheremo per i prossimi mesi e i prossimi anni la loro incompetenza. altro che fenomeni come li descrive Grillo, Conte descrive se stesso e quegli altri. Nel frattempo avremo il piano di transizione ecologica, oggi ne parla Chi ce l'ha, il Corriere della Sera da Macron agli olandesi, un'altra gigantesca minchiata che dovremo pagare a Grillo, i giornali sostengono che non è più Bernabè l'uomo, insomma che buoni rapporti, che dovrebbe guidarlo, invece Giovannini che peraltro mi sembra di averlo anche intervistato recentemente uno di quelli che si occupa proprio degli aspetti della sostenibilità. Fatemi dire un'altra cosa che non c'è sui giornali, io mi sono veramente rotto le balle del tema sostenibilità, gender, diversità, digitalizzazione, riforme, tutte parole. Abbiamo digitalizzato a Roma la carta d'identità, provate voi a fare la carta d'identità a Roma, ci mettete sei mesi, l'abbiamo fatta a Milano, ci mettete l'appuntamento preciso. Il problema sono gli uomini, non sono le minchiate delle etichette, sostenibilità, che cazzo vuol dire sostenibilità? Cosa vuol dire? Come la decliniamo? Un paragrafo fatto da un burocrate che non è mai stato in un'azienda? Vabbè, comunque sia, andiamo avanti con la transizione ecologica, se questo serve per mettere Draghi al posto di questi cialtroni, io accetterei pure la transizione ecologica, basta che non faccia nulla, ovviamente, di quello che non deve fare. Ci abbiamo avuto Costa, il Ministro dell'Ambiente, quello che si è inventato la terra dei fuochi, che ha pensato bene a bloccare metà delle opere pubbliche in Italia. Sono un po' avvelenato con ancora il passato governo, ma è una cosa che finisce ovviamente, ormai è andato, è finito, è morto, per fortuna. Nel frattempo, sul fronte della pandemia, ci sarà un Consiglio dei Ministri straordinario, spero l'ultimo del vecchio governo, che prorogherà l'incapacità tra le regioni di muoversi e probabilmente renderà Arancioni, Abruzzo, Toscana, Campania, ma anche il Trentino, dicono alcuni. La Moratti fa una bella intervista alla Libero, o alla Verità, non mi ricordo, no, scusatemi, alla Stampa, fa una bella intervista alla Stampa, in cui dice il piano Arcuri per la Lombardia non funziona, ma questo è evidente, non funziona il piano Arcuri perché l'altro giorno hanno mandato una mail a Arcuri l'altra sera dicendo che non arriveranno le dosi di Moderna, che servono per gli ultraottantenni, cioè il piano Arcuri è Ursula, basta leggersi l'ultimo Economist, sono due disastri annunciati. L'Economist dice che Ursula è una mediocre politica che sta facendo una mediocre politica europea e a me mi diverte che adesso l'abbiamo resa mito il metodo Ursula. Il metodo Ursula, per eleggere Ursula von der Leyen, è stata una cagata pazzesca. Ha espresso un Presidente della Commissione europea che ha fatto un danno pazzesco perché questa roba, una doveva fare dei vaccini e acquisto europeo, l'ha fatto, peggio di Gran Bretagna, peggio di America, peggio di Israele, peggio di tutti i paesi del mondo. Noi facciamo ancora là che ce ne imbrodiamo il metodo Ursula. Il metodo Ursula è il flop dei vaccini europei da cui discendono tutti quanti i suoi cantori che negravano le condizioni, tipo Arcuri e le sue primule. La UE è questa roba qua, però non si può mai toccare. E infine l'ultima cosa è questo Eric Gobetti oggi che piagnucola sulla stampa. Ah, ci sono gli haters che mi hanno detto vai all'inferno! Tanto gli haters dicono anche cose peggiori, glielo vorrei comunicare a Gobetti perché questo genio nel giorno della memoria, nel giorno della memoria in cui migliaia di italiani sono stati infoibati, cioè buttati dentro delle buche dai partigiani comunisti titini, beh, dice bisogna leggere il contesto. Allora, secondo voi, uno che nel giorno della memoria dice bisogna leggere il contesto, ovviamente io non insulterei nessuno e non gli direi Marcina l'inferno, poi tra l'altro mi sembra una cosa da film western degli anni 70, chi se ne frega, però bisogna dirgli che è un cretino, perché uno che nel giorno della memoria dice che bisogna vedere il contesto è come vedere il contesto su tante altre tragedie dell'umanità. Io non voglio vedere il contesto, nel senso che non c'è un contesto per quello che è stato fatto agli infoibati, non esiste un contesto che possa essere eletto perché quel contesto sembrerebbe giustificare quell'operazione e allora se questo Eric Gobetti non lo capisce, io sono contrario all'idea che lo insultino e se c'è qualcuno qua che lo insulta è un cretino della zuppa, perché cercate di essere seri, non si insulta. Bisogna semplicemente dire che Eric Gobetti è fuori da ogni contesto, è uno che è meglio che stesse zitto, poi può parlare perché in questo paese tutti devono parlare, tutti hanno libertà della parola, però ci permette di dire che la sua è una grande gigantesca cretinata. Nel giorno della memoria dire del contesto e che non sembra quasi che sia solo colpa dei comunisti titili e di chi è la colpa, di Babbo Natale, no? Siccome i fascisti ammazzavano allora era giusto farle fuori, beh, ma questo è proprio, cioè voglio dire, per fortuna, per fortuna che questo qua ce lo sentiamo una volta all'anno. Ciao.